Mi sveglio di buon umore come sempre e ho una visione serena del mondo. Non faccio il tempo a prepararmi che mi arriva la notizia che il mondo non funziona. Non rompete il cazzo, porca puttana! Da ex presidente del Consiglio, smettetela di litigare, aprite questi benedetti cantieri. Ma la condizione italiana peggiora, che chi ne dicano? Le politiche economiche stanno distruggendo questo paese. L'Italia è un paese speciale. Ogni generazione italiana ha creato qualcosa che il mondo considera patrimonio dell'umanità. Credo che la compagna giusta per Salvini sia Rosalia Binti. Siamo nelle mani di un governo di dilettanti, di incapaci. Voglio dire, ci tengo a dirlo, che ho trovato Luigi Di Maio persona leale e rispettosa. E' il solito gioco per spaccarci. Cioè si usa ogni buona occasione per spaccare noi e la Lega, dividere questo governo e mandarlo a casa. Ce ne devono mettere nel buco del culo i sigilli! Cari amici, L'alternativa che abbiamo davanti è o noi o loro. Scendete in campo anche voi. Venite con noi per aiutarci a costruire il nostro comune futuro. Grazie. Grazie. Grazie.